Per iniziare il G2, i corridori hanno otto anni e percorreranno quattro giri equivalenti a 3400 metri. Sono partiti! Per iniziare il G2, i corridori hanno otto l'intensità, perché ho scelto la verità, perché ho scelto la verità, perché ho scelto la verità, perché ho scelto la verità. Per iniziare il G2, i corridori hanno otto che ho scelto. Per iniziare il G2, i corridori hanno otto l'intensità, perché ho scelto la verità, perché ho scelto la verità. No warning of such a sad song Of broken hearts My dreams of fairy tales and fantasies Were torn apart I lost my peace of mind somewhere along the way I knew there'd come a time you'd hear me say I'm sick and tired I've always been sick and tired Your love isn't fair You live in a world where you didn't listen And you didn't care